Ciao, per questa pochette avremo bisogno di soli tre elementi, due rettangoli o quadrati identici e una cerniera. Sia all'altezza che alla larghezza dei rettangoli dobbiamo aggiungere la profondità desiderata per la pochette e inoltre bisogna calcolare anche i margini di cucitura. La cerniera come si può vedere è un po' più lunga della misura necessaria ma non sarà un problema accorciarla. Poi ho voluto inserire due piccole aggiunte che però non sono necessarie per la riuscita delle pochette e quindi si possono anche evitare. Incomincio subito con il primo extra, cioè delle taschine esterne, in cui si possono mettere gli oggetti più piccoli come gli elastici, le forcine o le mollette in modo da non perderle nello scomparto più grande e da essere velocemente raggiungibili. Per cui chi non fosse interessato può saltare il capitolo 2 e saltare direttamente al 3. In descrizione trovate il link ad ogni capitolo. Per le tasche esterne tagliamo un altro rettangolo di stoffa della stessa larghezza di quello principale e alto poco più della metà. Per prima cosa ho cucito del velcro per chiudere meglio le tasche, nel mio caso saranno 3. Ho cucito il velcro sul dritto della tasca e poi ho fatto l'orlo ripiegando la stoffa verso il rovescio. Ora sovrappongo la tasca al rettangolo più grande su cui andrà cucita e trovo dove cucire l'altra parte del velcro, cucio l'altra parte del velcro e infine unisco le due parti. Ora con delle cuciture dritte delimito le tre taschine e con un'altra cucitura parallela all'orlo riduco la profondità delle taschine che altrimenti risulterebbero troppo profonde e scomode. Purtroppo non ho calcolato bene la larghezza delle tasche e alla fine ho lasciato solo il velcro nella tasca centrale perché le due laterali erano così strette da non averne bisogno. Comunque il procedimento è lo stesso qualsiasi numero di tasche e di velcro vogliate mettere. Attacco la cerniera alle due parti principali della pochette. Dispongo il primo rettangolo dritto contro dritto con la cerniera, metto qualche spillo e cucio con il piedino per cerniere, poi apro e impunturo sul dritto perché in questo modo la stoffa rimarrà più a posto. Ripeto lo stesso procedimento con l'altro rettangolo cercando di allineare i due rettangoli. Questa è la parte in cui ho aggiunto le taschine esterne. Eccoci al secondo extra, due linguette per aiutarmi a chiudere e ad aprire la cerniera. Il capitolo 4 quindi si può saltare. In descrizione trovate il link diretto al capitolo 5. Per le linguette chiudo una striscia di stoffa formando un tubo, rivolto il tutto con l'aiuto di una spilla da balia, se voi ne avete una più grande sicuramente farete più velocemente e una volta sul dritto tolgo la spilla e impunturo i due lati lunghi posizionando la cucitura al centro. Questa sarà la parte non visibile all'esterno della pochette. Ora si può chiudere la pochette. Faccio una cucitura dritta parallela alla cerniera che unisca i due rettangoli principali e rifinisco con uno zig zag. Ora faccio scorrere la cerniera fino a trovarsi in corrispondenza della cucitura appena fatta e riprendo il tubo di stoffa appena cucito nel capitolo 4 e taglio due linguette più o meno della stessa misura. Ora faccio scorrere la cerniera fino a trovarsi in corrispondenza della cucitura appena fatta in corrispondenza della cucitura appena fatta. Tra i due strati della pochette infilo le linguette con i margini vivi tutti dallo stesso lato. Questi passaggi ovviamente verranno saltati da chi non vuole le linguette. La cerniera andrà aperta un pochino per poter rivoltare il lavoro alla fine. verifico che il margine di cucitura del fondo sia rivolto tutto dalla stessa parte e con degli spilli fisso tutto in posizione. Quindi cucio i due lati formando un rettangolo. Taglio la cerniera dato che la mia era troppo lunga e incomincio a segnare le cuciture degli angoli. Il procedimento è quello che vedete in questo momento, si cuce dove ho fatto una linea col gesto e poi si taglia, ma io per essere più precisa preferisco fare il contrario, quindi prima tagliare e poi cucire. Ad ognuno dei quattro angoli disegno un quadrato di 5 cm di lato, senza ovviamente calcolare i margini di cucitura e quindi prendo come riferimento le cuciture. taglio i quadrati e poi faccio scorrere i due strati di stocco. in modo da cucire lungo la diagonale. Ripeto per tutti e quattro gli angoli e termino così la mia pochette. Io ho aggiunto un ulteriore extra, una maniglia fatta con la rimanenza del tubo usato per le linguette. Ho infilato quest'ultimo pezzo di tubo all'interno di due delle diagonali lungo un lato corto, avendo cura di avere tutti i margini di cucitura dalla stessa parte. Ho cucito e rivoltato. A questo punto potete vedere la pochette terminata, con le linguette per aiutarmi a tirare la cerniera, le taschine esterne e la maniglia per poter essere trasportata più facilmente. Grazie per l'attenzione e a presto!